Padova, nuovo controllo al campo nomadi di via Bassette. Ad una settimana dal primo controllo, polizie, carabinieri e vigili sono tornati nell'area abusiva di Mortise. Sono state identificate 31 persone, per lo più donne e bambini. Una coppia di origine bosniaca, con precedenti per furto e farsi generalità, è stata segnalata e allontanata da Padova. Controllate le targhe di tutti i veicoli per vedere se risultavano essere provento di furto.